Supercoppa d'Inghilterra, bellissima, vincono i Reds, andiamo a vedere, questo è il primo palo, incredibile palo, questo è il primo gol di Arunay, bellissimo, l'1-0 di Arunay, qua ha un po' di falli, questo è il giallo ad Armian, poi tiro parato a Arunay, questo è l'1-1, Claverley, gran bot, questo è Yanusai, guardate, bellissimo, Yanusai, 2-1, 3-1 di Schweinsteiger, fa tutto da solo, poi la riapre Nismith, andiamo a vedere, questo è il tiro di Lukaku alto, Nismith la riapre, vediamo qua, 3-2, però non succederà più nulla, a parte l'errore al novantesimo di Schweinsteiger, vince Manchester United, ed è quindi campione della Supercoppa inglese.